Buon pomeriggio a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Ovviamente andiamo a parlare di Indian Wells e di quello che sta accadendo, ovviamente, tennis, master mille, torneo sul cemento all'aperto in quel degli Stagniti d'America, location suggestiva tra le montagne, location desertica, ecco, diciamo così, quindi molto particolare e suggestiva. Sono terminate le qualificazioni femminili, che vedevano solo, cioè, composte solo da due turni di qualificazione, ovviamente, semifinali e finali, mentre per quanto riguarda quelle maschili siamo in corso di svolgimento. Tre turni, quarti, semifinali e finali, ovviamente, con degli italiani sorprendenti nei primi turni, ma partiamo prima dalle ragazze. Prima di continuare, però, vi chiedo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi nessun nuovo contenuto e ditemi la vostra qui sotto nei commenti su queste qualificazioni e fate le vostre prediction su quello, su quel che sarà Indian Wells 2021. Partendo dalle ragazze, c'erano comunque in lizza per qualificarsi Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan e Jasmine Paolini. La prima che ho citato, la Stefanini, perde, ma era abbastanza pronosticabile, posso solo dire, speriamo bene per il futuro, 23enne, comunque si sta affacciando adesso, o meglio, negli ultimi mesi, ai tornei più grandi, giocando qualificazioni in un 2,50, qualificazioni adesso in un WTA 1000, qualificazioni di là, di qua, insomma, pian piano fa esperienza e quindi queste sconfitte possono solo che far bene. Jasmine Paolini e Martina Trevisan superano agevolmente il primo turno, al secondo turno la Trevisan batte molto facilmente lasciandole solo tre game, la statunitense Brandt Mayer, ovviamente wildcard nelle qualificazioni e americana, e Jasmine Paolini invece perde contro l'Ucraina, Kotslova, anche se, anche se, viene ripescata nel main draw, sempre a causa dei ritiri, cose che succedono molto frequentemente, quindi vediamola come una seconda possibilità pre-Jasmine, sperando che faccia tutt'altra partita nel primo turno contro la giapponese 22enne Ontama, perché? Perché nelle qualificazioni contro l'Ucraina Kotslova perde, ma perde veramente male, 2-7-0, pochi game vinti, sconnessa proprio anche a livello mentale in campo, quindi non bene, speriamo che questa botta di fortuna possa servirle per riprendere il filo del discorso, ecco, la dico in parole povere, e quindi tre italiane avremo nel main draw di Indian Wells, due partono dal primo turno, Paolini e Trevisan, una parte dal secondo turno, ed è Camila Giorgi che usufruisce di un buy essendo testa di serie, tra l'altro, molte giocatrici e molti giocatori usufruiscono dei buy, come sapete, nei primi turni dei Master 1000. La Giorgi affronterà la vincente di Anisimova Scott, giocatrice 17enne americana e wildcard, ovviamente, certo, con l'Anisimova, scusate, ci si può aspettare di tutto, ormai perché mi sembra un pochino una testa calda, ecco, diciamo così, Paolini, già ho detto che affronterà la giapponese Ontama, e non so sinceramente che partita possa essere perché non l'ho mai vista giocare, questa 22enne giapponese, mentre Martina Trevisan affronterà la cieca Buzkova, anche qui partita, tutt'altro che impossibile, primo turno fattibile per la Trevisan. Passando agli uomini, invece, allora, partendo dai quarti di finale, quindi dal primo turno, Caruso batte 2-7 a 0, molto agevolmente, l'australiano Kubler. C'era il derby Gaio-Arnaboldi, vinto dal secondo, che ho citato, un pochino a sorpresa. Vince Marcora un gran match contro il più quotato Bolt, testa di serie numero 3 di questo tabellone di qualificazioni, 6-7, 7-6, 6-2, quindi il rimonta molto bene, e affronterà al secondo turno Viola, che batte anche qui in una partita tutt'altro che scontata, Tanasi, Kokkinakis, che, australiano che, ricorderete, sarebbe dovuto essere una grossa promessa del tennis, invece poi si è letteralmente sciolto, o quasi come ghiaccio al sole. Quindi, grande vittoria di Viola, ovviamente, ma non è il Kokkinakis di inizio carriera, e al secondo turno avremo Caruso, Chiroz, Marcora, Viola, quindi altro derby, quindi un italiano sicuramente si giocherà l'accesso al main draw nell'ultimo turno, e abbiamo anche Arnaboldi contro Olivo. Per quanto riguarda i main draw, ovviamente, ripartendo e ritornando a quello femminile, tranne Ashley Barty, ci sono le giocatrici più forti del momento, quindi Carolina Pliskova, Igas Viontek, Belinda Bencic, campionessa olimpica, mettiamoci anche Camilla Giorgi, che comunque ha vinto uno degli ultimi WTA 1000, Muguruza, Emma Raducanu, vincitrice, e sono curiosissimo di rivederla nuovamente all'opera, di come reagirà alla sua, alla propria vittoria proprio nello US Open, perché non è mai facile continuare nella striscia positiva, e quindi anche qui ci sarà da divertirsi. Per quanto riguarda gli uomini, invece, abbiamo molti più atleti, già nel main draw, e altri che possono, come ho già detto, qualificarsi. Avremo Musetti, che non è testa di serie, però, e affronterà al primo turno Albert Ramos, poi abbiamo Berrettini, Sinner, Sonico, Fognini, che sono già tutti al secondo turno, poi abbiamo Gianluca Mager, e non credo di essermene dimenticati altri, insomma, però, comunque abbiamo tanti giocatori e tanti italiani in campo. Anche qui, nel main draw, non ci sarà Novak Djokovic, non ci saranno, ovviamente, in lungo dei genti, Tim, Federer, Nadal, che rientreranno, forse, parlo soprattutto per Roger, nel 2022, perché qui veramente non si sa più nulla di cosa possa accadere nel breve futuro, e quindi godiamoci questo Master Mille, godiamoci questo Indian Wells. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale, seguiranno, ovviamente, aggiornamenti, nei prossimi giorni, quando si concluderanno le qualificazioni, ma ripeto, oggi, questa sera, ora italiana, inizia il main draw femminile, non credo che ci siano, però, forse questa notte gioca Jasmine Paulini, insomma, vedremo poi nei prossimi giorni, e vi aggiornerò. Dicevo, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella, lasciare un like, quindi supportarmi in generale, se apprezzate quello che sto facendo e quello che faccio, ci metto sempre, sempre, tanta passione e tanta voglia di fare, e al prossimo video!